Grazie Presidente, io molto brevemente volevo invece rassegnare, indicare il voto favorevole della nostra maggioranza e in più fare una riflessione. Io penso che questa circostanza che abbiamo realizzato con la presenza mista è qualcosa che è attinente a una forma di progresso. Il progredire dobbiamo vederlo come una capacità che ha un organismo, quindi anche una comunità, di reagire alle situazioni che pregiudicano il buon funzionamento della loro attività. Quindi questo è stato fatto e di questo io ringrazio tutte le persone che hanno contribuito affinché questa cosa avvenisse. In merito poi al fatto di avere la presenza sempre e comunque costante in aula, io non riesco a capirla questa cosa, anzi la vedrei, un ostinarsi su questa posizione adducendo il fatto che ci sono persone che alzano la serranda, ma ci sono anche persone che lavorano sulla gru, ci sono delle persone che lavorano in fondo al mare, ci sono delle persone che lavorano in mezzo ai boschi, ma cosa significa? Che allora non bisogna utilizzare quelle forme di progresso che la tecnologia, la nostra organizzazione, la nostra intelligenza, la nostra capacità ci mette a disposizione. Questo cosa sinceramente non la capisco e questo è il motivo per cui ritengo che invece tornare indietro sarebbe un arrestare in maniera sciocca, in maniera sciocca arrestare una forma di progresso che io considero tale e di ringrazio per chi la resta possibile. Quindi torno a dire che per questo emendamento ci sarà il voto favorevole di questa maggioranza. Grazie colleghi e Presidente.